Sì, perché se c'è rimasto delle mosterelle e del salame, cosa le mangi? Sì, come diceva Tiziana, non si prende l'asso della cendalla, l'abbiamo tracciata, l'abbiamo già finito. Così hanno rimasto il salame, hanno rimasto la cendalla e lo restano la pizza di nuovo. Solo che non ho un'idea di tante volte per quello di nuovo. Ma qualcuno la darà? Ma non c'è l'incontro? No. Prima fanno l'insetto e fanno l'insetto. Sì. Credo di sì a me. No, no. Non lo so. Non lo so più. C'è anche gente che non so se ci sceglie tutti i sali, se vogliono i sali. C'è anche gente? Tutti i sali. Ci sceglie. Tutti un po' prima. Guarda la parte qui. No. 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 Grazie. 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 Hai visto che ci è stercato prima?